AppiStudio, STP e Vairon Consulting Group hanno organizzato il 2 luglio alle ore 10 presso il borgo di Marzanello Vecchio un convegno dal titolo Oltre il PSR, aiuti in favore delle aziende dell'agroalimentare. Si tratta di un'opportunità che mira ad illustrare i finanziamenti oltre il PSR che esistono per le aziende sotto forma di risorse a fondo perduto, contributi in conto capitale e mezzi propri. Cerchiamo di illustrare meglio le caratteristiche di questa iniziativa. Il convegno è rivolto a tutte le aziende agricole del territorio, quindi aziende che producono nocciola, aziende che producono olio d'oliva, allevamenti, aziende orticole in genere, per informarle sulla presenza di nuove opportunità oltre al PSR. Si parlerà di nuove risorse finanziarie per le aziende, è un bando del Ministero che offre alle aziende la possibilità, partecipando in rete, partecipando in filiera, quindi aggregandosi tra di loro, di accedere a risorse previste, erogate sotto forma di un 40% a fondo perduto, 30% in conto capitale e 30% mezzi propri. Noi spiegheremo come si presenta una domanda in questa tipologia di pratiche e soprattutto quali sono i requisiti per le aziende per poter accedere a questa misura. Il convegno è stato organizzato da Appi Studio, STP e Viro Consulting Group. Il 2 luglio presso il borgo di Marzanello Vecchio vi aspettiamo numerosi e cerchiamo di cogliere questa opportunità, cerchiamo di presentare tante domande e cerchiamo di evitare che le risorse finanziarie erogate dal Ministero non tornino indietro. Grazie a tutti.